Il principe Ferri e Meghan Markle sono pronti, disposti e capaci di tornare in Gran Bretagna con i loro due bambini quest'estate in una dimostrazione di unità familiare per il re Carlo, è stato affermato. Il principe Ferri e Meghan Markle hanno cancellato i loro impegni nella speranza che suo padre, malato di cancro, estenderà loro un invito ramoscello d'ulivo per unirsi al re Carlo e alla regina Camilla a Balmoral, secondo una fonte altolocata di Hollywood. Si dice che il monarca malato, 75 anni, sia particolarmente desideroso di conoscere i suoi nipoti residenti in America, il principe Archie, che compirà 5 anni il mese prossimo, e la principessa Lilibet, che ha incontrato solo una volta di persona e che compirà 3 anni a giugno. Lo stesso Ferri festeggerà il suo storico quarantesimo compleanno a settembre e un dirigente dell'intrattenimento vicino a lui e Meghan, ha dichiarato. Stanno considerando quest'estate come un punto cruciale per ripristinare i rapporti con il re Carlo. Sono pronti, disposti e in grado di volare a Balmoral, qualora arrivasse l'invito, e sperano sinceramente che ciò accada. Oltre a sostenere il re nella sua battaglia per sconfiggere il cancro, sono ansiosi quanto lui che i loro figli trascorrano del tempo di qualità con il nonno, i rapporti statunitensi della scorsa settimana, secondo cui un invito al ritiro annuale delle Highland è imminente, sono stati respinti come prematuri da alcuni osservatori reali, che credono anche che ci siano poche possibilità di riconciliazione tra i Sussex e il fratello di Ferri, il principe William, e la cognata, la principessa Kate, che è anche sottoposta a chemioterapia in seguito alla diagnosi di cancro al seno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.